Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Abbiamo dovuto aspettare l'ultimo giorno di gennaio per un po' di pioggia sulle nostre regioni. Tempo instabile dunque, con precipitazioni diffuse e arriva anche la tanto sospirata neve in montagna. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora moderatamente il tempo, nubi diffuse con piogge sparse e qualche nevicata sui rilievi alpini a 1100-1300 metri. Vediamo anche le temperature, le massime sono attese intorno ai 4-7 gradi, valori minimi previsti tra 1 e 4 gradi circa. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli, Venezia e Giulia. Nubi diffuse su tutta la regione, con deboli piogge sparse e possibili nevicate sui settori alpini fino a 700-800 metri. Le temperature massime sono previste tra 5 e 9 gradi, valori minimi attesi tra 2 e 6 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Guardate qui, nuvolosità in intensificazione e deboli nevicate sparsi a 1100 metri. Temperature massime intorno ai 2 gradi, valori minimi intorno invece allo 0 o a meno 1. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli, da sud sulle zone costiere e moderati al largo. L'aggiornamento meteo per oggi termina qui, vi do appuntamento a domani. Arrivederci. Ascotrade. Lucha e gas. Energia dalla nostra mano.